Un vero e proprio arsenale da caccia è stato sequestrato a Gianni Zonin, l'ex presidente della Banca Popolare di Vicenza, condannato a 3 anni e 11 mesi di reclusione l'ottobre dello scorso anno dalla Corte di Appello di Venezia. L'interdizione dei pubblici uffici per 5 anni ha fatto decadere uno dei requisiti per mantenere il porto d'armi e la licenza di caccia. Per questo la Prefettura di Vicenza ha disposto il sequestro di fucili e munizioni nelle diverse residenze di Zonin, non solo in città ma anche a Montebello, Brindisi, Siracusa, Udine e Grosseto, anche perché non potessero essere commessi abusi. Al termine delle operazioni sono stati perciò sequestrati 12 doppiette, 5 carabine, 4 fucili, 4 pistole e un grande quantitativo di munizioni. Il questore di Vicenza inoltre avrebbe negato il rinnovo del passaporto all'ex numero 1 di BPV impedendo di fatto la possibilità di espatrio nei paesi extracomunitari. Il prossimo 14 dicembre inizierà l'ultimo atto del maxiprocesso in Corte di Cassazione.